Il candidato presidente alla provincia di Napoli Luigi Cesaro ha definito questa mattina le linee guida del suo programma teso a rilanciare il futuro del capoluogo partenopeo. In corso di dibattito l'onorevole Cesaro ha menzionato quali siano le necessità primarie di una città trascurata come Napoli. Un accento particolare è stato posto sul fattore legalità, a suo parere punto focale per il riequilibrio di dinamiche sociali ridotte ormai allo stremo. Anche ieri abbiamo fatto un incontro con alcuni tecnici in materia di legalità e stiamo affrontando un percorso importante perché per noi la legalità è uno dei primi punti che potremmo all'attenzione del nostro programma. Credo che la provincia di Napoli va rilanciata come già ho detto prima, che la provincia di Napoli è il 50% della popolazione della regione campana e non è possibile avere questo dislivello tra periferie e Napoli centrale. Deve essere Napoli metropoli, Napoli metropolitano, deve essere come Milano, come Roma, Napoli deve essere la capitale del mezzogiorno. Qual è la valenza che i giovani hanno in questo nuovo programma? La valenza in questo nuovo programma è una valenza importante perché l'abbiamo già annunciato un mese fa e loro stanno collaborando con noi per cercare di mettere a punto questo programma, soprattutto per cercare di capire le problematiche dei giovani. A rincarare la dose l'onorevole Marcello taglia la tela che sottolinea la pregnanza che le città metropolitane hanno nel tessuto nazionale. La legge che è all'attenzione del Senato, già approvata alla Camera, quella sul federalismo fiscale, si rilancia l'idea delle città metropolitane perché è evidente che in Italia esistono, da un punto di vista geografico, economico, sociale, politico, occupazionale, delle aree che meritano una particolare attenzione, tra queste sicuramente Napoli.